siamo in onda fantastico oggi parleremo delle 26 problematiche che ci sono dietro allungamento dei capelli per andare un po più a fondo proprio perché è un metodo questo se noi conosciamo tutti i fenomeni delle station non avremo mai nessun problema e proprio per questo che non avremo problemi dobbiamo educare la cliente dei fattori sia fisici della materia sia psicologici individuali della cliente però andiamo per ordine allora adesso io metto una slide così divento piccolino anche io questa puntata parleremo dei fenomeni fisici e psicologici che ci sono dietro l'allungamento dei capelli che su un'estensione media di 100 sciocche con tre mesi di garanzia venivano fuori un sacco di problemi che sono di carattere fisico e poi anche intellettuale però andiamo per ordine io adesso vi elenco uno per uno e poi ne parlo un pochino per capire però ci sono poi tante 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 altre cose che dovremmo sapere seguitemi incamerate con bramosia quello che io vi dico perché è fondamentale adesso come noi andremo a fare un rito adesso noi facciamo un rito di che cosa c'è dietro l'allungamento dei capelli ciao ciao ciao